Buongiorno a tutti, io sono Barbara, titolare del centro Beauty Premier Arezzo. Sono estetista da 15 anni e titolare di un centro estetico da 9. Il mio centro è situato ad Arezzo in via Piave 2 barra 8. Il mio istituto è specializzato in dimagrimento e abbiamo anche il supporto di una nutrizionista e inoltre ha specializzato anche in dermopigmentazione e ricostruzione e unghie. Nel nostro centro ci sono vari macchinari Beauty Premier come ad esempio la presoterapia, gli infrarossi, la radiofrequenza, gli ultrasuoni e l'elettrocuratore. La presoterapia ci serve per fare un trenaggio meccanico quindi andiamo a smaltire tutto quello che sono i liquidi in eccesso e è molto utile appunto soprattutto dopo un trattamento di dimagrimento. Gli infrarossi invece ci servono per quanto riguarda il metabolismo e quindi ci permettono di innalzare il metabolismo della persona e andare a bruciare proprio i grassi. Mentre la radiofrequenza per quanto riguarda il corpo ci serve per la tonificazione e per quanto riguarda il viso ci fa un effetto lifting in quanto lavora appunto sulla stimolazione di collagene e dell'astina. Oltretutto abbiamo ottenuto fantastici risultati e le nostre clienti sono rimaste molto soddisfatte in quanto hanno perso molti centimetri e hanno rimodellato la loro silhouette. L'elettrocuratore invece serve per far penetrare i principi attivi naturali che utilizziamo in profondità fino al derma e gli ultrasuoni infine ci permettono di rendere piacevole anche un trattamento magari un pochino meno piacevole come può essere la pulizia viso. Inoltre abbiamo anche il macchinario per la fotoepilazione quindi per l'epilazione progressiva permanente. Il mio staff è composto da me e altre tre ragazze. Samira che è specializzata nei massaggi, Marianna che è specializzata in trattamenti viso e corpo e abbiamo Angela la più piccolina che è specializzata in manicure semi permanente e trattamenti unghie. Io invece sono specializzata in fotoepilazione, dermopigmentazione e nell'arte. Il cliente dovrebbe scegliere Beauty Premier perché l'eccellenza nel campo dell'estetica e ci permette di essere sempre all'avanguardia e di offrirvi il meglio a 360 gradi a partire dall'accoglienza fino al risultato finale. I nostri metodi di pagamento sono contanti, bancomat, carta di credito e inoltre abbiamo le carte prepagate dove c'è un bonus che è un vantaggio appunto per il cliente e abbiamo inserito anche Pagodil. Io e il mio staff vi aspettiamo in via Piave 2 Barotto e Arezzo e se non sei ancora il nostro cliente il primo trattamento te lo regaliamo noi.